buongiorno a tutto il mondo ecco il mio penultimo video realizzato per il concorso fotografico di tart of rice per voi io ho deciso di realizzare persino il video il video è venuto lungo quindi ho deciso di tagliarlo in più parti se vi interessano le altre nail art sulle altre quattro unghie vi consiglio di andare a vedere nel mio canale che potete trovarli grazie a tutti 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 grazie a tutti